Bene, quindi sei qui a chiederti cosa sia l'English Fluency Conversation Club. Quindi non perdiamo tempo e mettiamoci al lavoro. Ecco, le poche domande di base che probabilmente ti stai ponendo sono tipo come posso migliorare le mie capacità di parlare inglese per conversazioni nella vita reale soprattutto, come posso imparare a parlare fluentemente degli argomenti che mi interessano di più, come posso migliorare la mia pronuncia, come posso ampliare il mio vocabolario in inglese e come posso migliorare la mia comprensione di ascolto. Queste sono le domande. Come posso trovare il tempo per migliorare il mio inglese? Beh, la risposta è in realtà abbastanza semplice. Puoi utilizzare l'English Fluency Conversation Club per esercitarti a parlare inglese nel modo più divertente ed efficace possibile. Ad esempio, puoi vedere proprio qui una conversazione sul tema del viaggio tra Elisa e Paolo. Puoi, qui sotto poi abbiamo il file audio da ascoltare, il testo che puoi leggere mentre ascolti, e sotto abbiamo un link che puoi cliccare per vedere una traduzione istantanea di questa conversazione in qualsiasi lingua che tu scelga. Ecco, quindi è geniale, no? Mentre continuiamo lungo la pagina, puoi vedere che ci sono più file audio che puoi usare per esercitarti nel gioco di ruolo di ogni parte. Quindi, ad esempio, puoi riprodurre questo audio e leggere la parte della conversazione di Paolo. Puoi ripetere anche questo esercizio tutte le volte che vuoi e puoi utilizzare il file audio successivo per esercitarti nel gioco di ruolo della parte di Elisa. Il gioco di ruolo è un modo divertente per esercitarsi a parlare e poiché dovrai leggere ogni riga della stessa velocità dei madrelingue inglesi, ci vorrà un po' di pratica, ma inizierai a notare che parli più frequentemente e allo stesso ritmo di un madrelingue inglese. Sotto questa sezione troverai una sezione in cui puoi scrivere i tuoi commenti o anche porre domande. Se dai un'occhiata al menu principale, troverai un'incredibile selezione di lezioni su tutti gli argomenti di conversazione più comuni, sia per la tua vita personale che per il contesto professionale. Ad esempio, potresti voler parlare di cibo, di viaggi, notizie, attualità, moda, salute, hobby e tanti altri tra cui scegliere o forse il tuo focus è su argomenti di conversazione in contesti professionali come leadership and management, definizione di obiettivi, il servizio alla clientela o anche per un colloquio di lavoro, per fare un esempio. Puoi vedere dove sta andando questa cosa. Ovviamente tutto quello che vuoi imparare e se vuoi impararlo velocemente è qui, ma solo perché so che sei impegnato e che hai delle cose da fare, torniamo in cima e vediamo cosa c'è dentro. Come puoi vedere, qui abbiamo creato un sistema proprietario e unico di apprendimento che ti rende impossibile non assorbire la lingua inglese. Per iniziare puoi vedere il corso Active Reading and Passive Listening che è diviso in sezioni che comprende anche più conversazioni per esercitarsi e spiegazioni semplici e di facile comprensione della lingua inglese che viene utilizzata durante il corso. Cioè tutto il linguaggio viene analizzato. Così inizierai rapidamente a vedere e riconoscere diversi tipi di parole in ogni frase che pratichi parlando come verbi, sostantivi, avverbi, aggettivi, preposizioni e persino anche il gerundio. Il corso Active Reading and Passive Listening include anche traduzioni istantanee e file audio che puoi ascoltare passivamente mentre viaggi per andare al lavoro, mentre cammini nel parco, ti alleni in palestra, ovunque davvero tu stia. Qui più ci lavori, chiaramente più lontano andrai e più fluente e preciso diventerà il tuo inglese parlato. Aggiungiamo nuove lezioni ogni settimana, quindi c'è una scorta infinita di nuove conversazioni con cui esercitarsi. È impossibile che l'English Fluency Conversation Club non cambi la tua vita, quindi fai click di seguito per iniziare. Ti garantisco che questi corsi saranno il miglior investimento per il tuo futuro che tu abbia mai fatto. E chi sono io? A proposito, sono Nigel Casey, il tuo coach per la padronanza dell'inglese. Sono madrelingua inglese. Sono altamente qualificato con tre lauree universitarie e oltre 27 anni di esperienza in aula. Parlo, come vedi, correntemente anche l'italiano. Il mio livello è C2 ed è... sono certificato CILS 4 presso l'Università di Siena. So cosa vuol dire lottare per imparare una seconda lingua e so che questo esatto sistema di allenamento ti farà parlare in inglese in modo più fluido e preciso molto prima di quanto pensi.